Ciao Italia Book Festival e ciao lettore. Sono Daniela Capobianco, autrice di Muschi Alti, un romanzo edito da Claun Bianco. Si tratta di un romanzo corale e narra la storia di cinque personaggi che per una ragione e per un'altra si trovano ad allontanarsi da casa. Il viaggio è proprio come ricerca e come bisogno di ritrovarsi o di perdersi completamente. Il caso vuole che si trovino tutti in questo agriturismo, che è un agriturismo che esiste veramente nel cuore della Maremma, dove succederanno tutta una serie di avventure, croccanti o meno, tra loro e che saranno indimenticabili. Certo è che nessuno tornerà da questo viaggio come era prima. C'è una voce fuori campo, che è un tal Walter Gentile. Lui è un personaggio molto particolare. Anche lui non si è mai allontanato da casa. È di Torino, lavora in banca, sempre la stessa vita, vive con gli anziani genitori e per una ricerca e un bisogno di inseguire la sua oscura passione un giorno decide di allontanarsi. Ecco che lo ritroviamo in tangenziale a inseguire una cosa che non sa. Lui ha un'oscura passione molto particolare. Effettivamente lui si imbuca nei funerali e questa nota noir darà un ritmo al racconto un po' diverso. Poi abbiamo Adelaide. Adelaide Bertoni è una pescivendola di Torino che vive e condivide la sua vita lavorativa con la nonna maggiorina, una nonna veramente speciale, un po' una pupette del tempo delle mele. Anche lei si allontana, lei non è pronta ad avere un figlio e decide di prendersi uno spazio. C'è Flora, lei è un personaggio veramente particolare, è una commessa di Bergamo che vive al di sopra delle sue possibilità. Il suo obiettivo è trovare un uomo, un uomo danaroso che la faccia vivere come una regina. Ce n'è uno di turno, in questo momento ovviamente c'è Amedeo e la porta a Roma, ma a Roma non arriveranno mai. Biagio ha un obiettivo, vuole scrivere un best seller, il best seller della vita, ma al blocco dello scrittore. Ha mille ansie, decide di prendersi un momento per provare a vedere se quel foglio bianco finalmente si ritorna a essere in bianco e nero. E l'ultimo, Giovanni. Giovanni è un giocatore d'azzardo, un motociclista, vive un po' al limite, dietro al ritmo del gioco d'azzardo, ha un casino con il casino e decide di raggiungere la Toscana per incontrare il suo amico Calippo, un avvocato molto capace, senza scrupoli, che di sicuro lo aiuterà a risolvere il problema col casino. Queste sono le 5 vite che avrei voglia tanto che tu leggessi e spero di averti incuriosito. Non mancheranno le sorprese. Ciao!